In questo video parleremo del riscaldamento. Il riscaldamento è una parte fondamentale del nostro allenamento, infatti dovremo dedicarci almeno 10-15 minuti ogni volta che ci alleniamo. È molto importante riscaldare sia le articolazioni che i muscoli, ma soprattutto per prevenire il rischio di infortuni. Andiamo adesso a vedere tre esercizi di riscaldamento molto utili per le spalle in generale per questo esercizio. Il primo consiste in un'adduzione delle scapole ed extra rotazione di spalle. Molla, adduzione di scapole, extra rotazione di spalle. Il secondo esercizio, mano che prende l'elastico, gomito flesso, flesso estensione di spalla. Si porta avanti e indietro e così si dà mobilità articolare alla spalla e anche ai muscoli dei cuffi rotatori. Il terzo esercizio di scaldamento invece, gomito esteso, spalla attiva e si va a strecciare i muscoli della zona pettorale, tuffi ai rotatori e al tempo stesso anche mobilità articolare. È molto importante trovare il punto giusto in cui vi sia una tensione corretta a livello della zona della spalla. Per questo esercizio vi consigliamo AntePlus, un pre-workout che si distingue con un apporto considerevole di citrullina in sinergia con creatina, carnitina, beta-alanina, caffeina e vitamine.